Bella ragazzi, Quironi bentornati, eccoci oggi con questo nuovo video intro brevissima perché poi vi lascerò subito al video Oggi siamo su Code 4 perché dopo l'episodio che ripetito particolarmente di Mv2 abbiamo deciso di tornare subito su Code 4 che è uno dei nostri Code preferiti Tra l'altro l'ho voluto fare subito perché a breve uscirà FIFA e vorrò dedicarmi un po' di più a FIFA 17 durante i suoi giorni di uscita Però Code comunque continuerà a uscire e fatemi vedere il vostro supporto con un bel mi piace perché a 25.000 mi piace continueremo questa sorta di mini serie Di serie dove giochiamo, facciamo cose in gruppo e cerchiamo di dittare qualche clip qua e là se ci riesce meglio Detto questo vi lascio al video, buona visione, grazie in anticipo di tutti quanti ragazzi mi raccomando un bel mi piace, bella Signori siamo tutti qua, tutti pronti, oggi siamo in quattro perché siamo gli unici che abbiamo con quattro al momento, incredibili Allora le feed già sarebbe tanto perché comunque siamo fuori allenamento, proveremo a fare magari qualche bounce, quello ci penserà Gianmarco Vero Gianmarco che tu sei il bounce, credo, le faccio i pezzi raga, fortissimo Ho apprezzato molto il fatto che hai messo Weed Stallions nel titolo del vecchio video, per favore non metterlo oggi perché io con questi due non voglio avere niente a che fare Aaaaaaah Che cosa stai provando Gianmarco? Gliel'ho detto, gliel'ho detto Fripa incoming, a parte il puffo, a parte il puffo è uno con il Juggernaut contro appena partiamo Guarda il Juggernaut contro appena partiamo Guarda il Juggernaut contro appena partiamo Guarda il Juggernaut contro appena partiamo Eh non c'è nessuno No c'era uno sdraiato, pensavo fosse morto Ma più che altro occhio ai martiri qua che... Vai Marzia, vai Marzia Ce n'è un altro, altri tre Marzia, altri tre Marzia Ti ho messo dietro, cazzo Aspetta Vai, 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 sto fermo Dove cazzo sta quell'altro? Beh, minimamente Ora gli faccio il bounce, vediamo Non c'era nessuno Go, go, go No dai, quella merda di coso Keep, keep Eh, ce n'avevo una a sinistra E li ho presi un po' raga Eh, mi sono spandati lì Mamma mia che figata raga, voglio giocare a quad 4 tutta la vita Maron Andiamo a prenderci In un mondo Eh sì ma... Vai, presto con te Oh! No! No, ho perso il quarto Maron è un altro livello Eh, su quad 4 qua si torna il vecchio stampo Si, e conta che non ho neanche la mano perché a volte levo davanti e lisciavo come una best Oh! L'unico problematico contro è Sweeney Qua ogni tanto tocca a prova, pure qualche non scurpa Si, provate Regà, 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 vado... Cioè, sto facendo jazz Sto sulla collinetta Sto sulla collinetta Sto sulla collinetta jazz E' lui E' lui Lo scope sul tuo gioco poi vanno a bomb E' lui jazz Incredibile Vabbè, Showney regà sta dietro al car armado No, Showney con l'RPD è infattibile Dietro al car armado è head glitch Madonna No, no, sono morto Levati, levati zio LEVATI Dovete levarvi, siete ingombranti Guardalo, c'è Showney con sto coso che va avanti sdraiato Niente, Showney stava lì dietro al grado Eh, Showney si è fermo in ogni parte della mappa Con sto RPD Qua corre dentro al car armado Guardalo, regà Come gioca Come gioca Come gioca Dai, regà, è la svolta Ma cante così Showney ti prego Stavo a fan ninja Lo stavamo a farla... Lo stavamo a farla... Showney non esiste E' Shweeney Tu me l'ho preso L'ho fatto un wallbang, regà Quattro muri Guarda come gioca Col Jagger e le cose Eh, telefono Guarda le granate che mi tirano Sette granate in bocca Ho preso più palli io che non lo so Di Zahen Io me lo prendo Guardalo Non puoi Ti prego Non ci credo No dai, va bene E' finita Guarda Ragà, c'è là il bot Ragà, c'è là I cheat Ha sparato attraverso un muro Che non sapeva dov'ero Te l'ho detto Pure a me me l'ha fatto Cambiando Da un momento all'altro La direzione della mira Cioè, no Non lo voglio trovare Vai Un altro Vai 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 Eh, no Eh, ho provato uno scope in 360 Bungie Oh, regà, non scopro dal tetto Mi fa campana Non lo ricordo ancora come si faceva Ma che roba Ma come si saliva veramente? Non mi ricordo Oh, hitmarker Hitmarker no scope No Che cazzo dici? Sei serio? Si, l'avevo preso Oh Porca troia Ah, fanculo Uh Quasi Oddio Oddio, 1080 bounce Oh Hitmarker Più venti Oh Ultimo Dov'è? No, ti è rimasta pure del tanto Te l'hai rimasta Eh, l'avevo fatta bella Ma io non Perchè? 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 Oh Ho finito i colpi Perchè uno Aveva il cazzo di Juggernaut Madonna Perchè mi è morto davanti agli occhi Bounce, ha blur T'ho insegnato a bounceare anche in questa Ma è vero, è vero Via Eh, vabbè Sono retarded BOOM Non l'ho preso nessuno Però, però era lì eh Vai, Ron Ti sto guardando Salimi Uh Oh Oh No, cazzo Me l'ho girato tutto storto Non l'ho capito perchè il tirador mi sta seguendo Io il tirador Non l'ho capito perchè abbiamo ancora un altro elicottero Contro in ogni partita Dai, rega, vi prego Eh, niente ragazzi C'è tanto elicottero di quelli posto che bello Oddio Seek Oddio bella Questa è caruccia, cazzo Non abbiamo le mani, sono fuori forma, cazzo Oddio, li ho tutti qua No, mazza No, manzza Avevo fatto reach out war più 15 io Avevo ammattare l'ultimo e me l'hai trovato Mi ha dato più uno Nooo Dai, x drop No, no, no 720 marker tipo mezzo across the map Da una finestra L'avevo proprio adocchiato bene L'avevo proprio adocchiato bene Faccio il North of Legends anche da qua Oddio, sto volando La mia vita sta finendo però I miei occhi stanno bruciando Ti ho capito Go Marza Malissimo Marza Oh C'era eh Li stiamo proprio arronte malissimo E poi lo prendo raga Fidatevi che se li mettete qua prima o poi li prendete Oddio dove è? Si vabbè se lo prendo così across the map è finito il video e 50.000 live Oh No Raga Hai preso No No No, te faccio un suga suga di consolazione Raga Era la Era lì sotto la casetta Oh, li ho capito Dai, ti do una pacca sulla schiena Erano 50.000 like No, erano 50.000 like Così proprio erano Erano Basta Jugger Merda Jugger Stun granata Punisher Lo sai chi è Punisher Ma perché stanno sdraigliando la scuola? Col mitraglione Oh 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 No No, no Lanciapuffi poi alla fine Guardati Fatti stifo Te l'ho spittata anche mia madre entrando in cucina quella fidda Vabbè Io sono l'unico stronzo che viene accoltellato stile commando Oh L'altro 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 L'ho visto Ma sono ritardato avevo davanti tre persone e mi sono fermato No, no Io sono una persona strana Gomarza Gomarza Ma proprio davanti, hai capito? Che me stavano di poi a guardar E non l'ho visti Mi sono fermato No, no No, no 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 A me è finita la videocamera Quindi, sti cazzi Ciao webcam Eh vabbè lanciapuffi di sto qua che non ha una vita Fai Marzo, falla! No! No, era collaterale Era collaterale e mi ha ammazzato con l'M Minchia, cazzo duro Maledetta arma Guarda quanti sono Gli alcuni spi Oh! Oh! Più 15, mancava il più 20, no, regà No, no Avevo fatto un miracolo Hai voglio la clip editata da Ron, cazzo C'hanno tutti il Jugger comunque Eh, un paio sì Tutti, 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 Dio santissimo, tutti E ci rimango male Ragazzi, sono tutti lì Basta Jugger, ti prego Marzo, Marzo, sono tutti lì dentro, Marzo No, ho fatto una streak da 10 kill Ron Ma guarda che punteggio ho fatto, Ron Eh, ho fatto 60 kill a testa, zio È impossibile, cazzo Però li stiamo veramente spaccando Cioè, ci stiamo vicini, regà Ma, merda Cioè, stiamo facendo i casini più assurdi Non riusciamo a chiudere una clip Eh, la ripersa l'Alfa Perché abbiamo... Chi l'ha persa? Oggi ho fatto la cena su Bella della Vitamina Oh! Non ho scopo nel niente Ho fatto uno scopo Oddio, ho pure io! Oddio, che figata! Questa però è bella! Non ci credo che stai giocando così T'ho visto dopo No! Fottiglia, regà Fottiglia, Blur che è in feed infinita Eh, è in feed che avevo fatto qua Dove ho sbagliato il quiz? Cosa? Coltellino tripla granata? Non ho neanche pranzato Non ho cenato Non sto mangiando da 53 ore Per fare una clip qua E non ho... No, no, basta No, no Il mio cuore non... Basta, regà qui Ciao Ragazzi, dopo 3 ore 39 minuti Il video più lungo che abbia mai registrato Sarà qualcosa di brutto montare 3 ore 40 Molto brutto Good luck, eh, Teo Per questo Almeno per supportare il fatto che Abbiamo perso ore infinite Anche per fare un video di 10 minuti Che vedete ci vogliono Ci vuole tanto tempo Per 3 ore 40 da montare Speriamo che comunque S'uppogliate il tutto quanto Con un bel mi piace E a 25.000 mi piace Noi ci riproveremo ovviamente Nei prossimi giorni Nel tempo che verrà Perché comunque non mogliamo Io ringrazio i miei tre compagni di oggi Che anche loro ci hanno fatti 3 ore 40 di sofferenza E mi hanno fatto compagnia Vi ringrazio Poi fate i loro canali che sono in descrizione Alla prossima Un bel mi piace Ragazzi a tutti Ti guiderò E dagli altri Bello Ciao Ciao Ciao